I just wanted Generosità e l'ironia, l'artista e l'amico amato. Senza di te tutto il mieli è più solo, tutto il movimento LGBT+, più è più solo, Roma è più sola. Ma tu sarai con noi per sempre, dall'alto dei tuoi tacchi, dall'acume della tua intelligenza e umanità, e infine dal carro ideale dei tanti e tanti prive ti vedremo per sempre. Grazie, Andrea. Grazie, zia Carli. Andrea Berardi-Curti, ovvero la Carli Dutine se n'è andato stasera, poco dopo le 22, in un letto dell'ospedale San Giovanni. Aveva 61 anni. Accanto a lui, la sorella, i soci del mieli, il presidente, Sebastiano Secci, che non lo hanno mai lasciato solo. Vladimir Luxuria, ha presa la notizia, è scoppiata in lacrime? Punto sono distrutta, è riuscita a dire. Con Carli abbiamo trascorsi anni bellissimi di lotta e gioia vera ricorda Imma Battaglia quella forza ironica e sarcastica accompagnato gli anni più importanti e belli della mia vita, che ha avuto epilogo nel World Pride del 2000. Lo ricorderò sempre così una drada in lotta. Sono certa che anche in cielo, porterà la sua energia, e i suoi meravigliosi e artistici travestimenti. La sua pagina Facebook è invasa da moltissimi messaggi, di chi l'ha conosciuto, per lavoro, o anche solo entrando a Nucca, una notte. Ti conosco da più di dieci anni. Quando ti convinsi a partecipare a un programma di prima serata per parlare di famiglie e tu, vestito meravigliosamente da The Ad, in una camp raccontasti cosa fosse per te la famiglia. Un posto dove di importante c'era solo l'amore, scrive Dimitri Cocciti, autore televisivo. Sei andato via Andrea, con te se ne vanno tanti ricordi di gioventù, scrive Emiliano Raja, con te va via un attivista per i diritti GLBT, senza pari, con te se ne va, anche la nostra carica Ufile. . Un personaggio incredibile, che ha anticipato tutto nel mondo dello spettacolo e dell'animazione e intravesti. Severo con se stesso ed indulgente con gli altri non ha mai fatto sconti agli ipocriti e ai Volta Gabbana, ricorda Enzo Cursio. Artista, drag queen, dirigente politico del movimento LGBT, personalità storica del circolo Mario Mieli sottolinea Aurelio Mancuso Carlo barra Andrea era tante cose e tutte interpretate con ironia, velenosità e favolosità. . . . . .